Amici del canale, ben ritrovati! Oggi una ricetta per un confettore di baccalà, semplice e alla portata di tutti! Iniziamo togliendo la pelle dal baccalà e poi procediamo rimuovendo le eventuali vische. Versiamo il baccalà pulito in un mixer e frulliamo. E ora procediamo con il resto degli ingredienti versando in un mixer prezzemolo, pan grattato, alici e l'interno del pane. Aggiungiamo pepe e un po' d'olio. E infine due uova. Uniamo il preparato al baccalà che abbiamo già rullato. Versiamo il composto in un rotolo di pasta sfoglia e compattiamo. Chiudiamo. La striscia che manca la ricaviamo dall'altra pasta sfoglia. Con la pasta sfoglia che avanza facciamo delle decorazioni. Spennelliamo con il tuorlo rimasto. Forniamo 200 gradi per circa 30 minuti. All 5 All 5 All 6 All 6 E Fr 550 Guardare